Sì, ciao a tutti i ragazzi da Studio Camusino, mi trovo in un mercatino rionale a Torino, poi si dubitava dell'esistenza dei mercati in questo territorio, non so perché. Trova poco raffinato da parte loro, essendo dei numeri uno da un decennio, invece no, guardate, si trovano i prezzi, si trova la gente che assalta questi territori di Brandina, e poi Biancheria, veramente prezzi straordinari. Scusa, posso chiedere giù una informazione? Lascia il numero del marito del Vito, ho visto che hai il borgino. Un saluto da Studio Camurina, ragazzi, e da Torino. Ciao!